E ciao a tutti ed eccoci qui, se non sbaglio, col ventunesimo episodio. Cosa stai cercando? Un'altra via d'uscita. Mike, non abbiamo la chiave della funivia. Josh, ce l'ha lui. Em, che cosa sono? Potrebbe averlo portato giù nella miniera. Em, cos'è quella? Dobbiamo restare al sicuro, Em. Ti prego. Porca troia, Mike! Oh merda, cosa cazzo ho fatto? Andrò a prendere le chiavi da Josh. Io, io torno a prendervi. Ok. Se non sbaglio manca questo e un altro capitolo, poi il gioco è finito, così ho letto. Ok, ok, ok. È l'unica cosa che so del gioco. Tolti gli achievement, i trofei. Allora, io adesso ho paura del Windingo. Ho veramente paura. Adesso che so che cos'è, ho paura. Anche perché il Pirla qua, Mike, mi sa che la pistola l'ha lasciata di là. Ovviamente. Ok. Comunque, come ambientazione, sto posto qua mi piace un casino. Veramente molto. Adoro ste cose qua, delle case abbandonate, ospedali. Roba alla Montesi, la adoro veramente molto. Se può buccare chi dentro, chi? Non mi sa di sì perché siamo dentro. Allora. Io sto andando tutto a caso. Non so se sto andando dalla parte giusta, mi sa di no. Ah, laggiù c'è qualcosa però. Cos'è, un quadro? Sì. Ok. Di uomini miracolo. Di uomini miracolo. Ah, un totem. Vediamo un po'. Ok, brutta cosa. Un'esplosione. Ricordo che il Windingoli muore solo col fuoco. Col fuoco. Allora. Ho la bocca asciuttissima, riesco appena appena a parlare. Dai, camion, non passare fuori. Scusatemi se per caso sentite un camion. Ma non è colpa mia. Passano sempre sotto casa mia i camion. Ok. Perché porca troia? Ah, siamo... E' già i lupi. Qua c'erano i lupi. Qua è dove abbiamo preso la pistola. Allora, qua, così. Qua dritto, se non sbaglio, c'era il lupo. Oh no, forse era qua. Però non mi fa vedere nulla, quindi... Non c'è niente. Ok, qua c'è qualcosa. Salta giù. Uh, c'è una bella arma. No, ma io... Io voglio prendere la pistola dei pirati. Mancano solo un forcone e una folla. Ah, però è meglio così. Perché il Windingo ha paura del fuoco. Noi abbiamo... Il fuoco in mano. La torcia. Eh, pigliamo anche la pistola, va? Ma piglia tutti i proiettili. Che poi non sarà una pistola, ma è un fucile. Vabbè, fa nulla. Eh, scusmi, non riesco a guidare il personaggio. Dunque, di qua siamo arrivati? No. Allora, exit, c'è la freccia di qua. Quindi noi seguiamo la freccia. Seguiamo un bel niente, perché non si può andare. Ah sì, ma siamo tornati indietro, eh. Quindi... Di qua... Oh, non mi ricordo più il giro. Eh, di qua. Bene. Vabbè, noi abbiamo la pistola. Che è poi sempre un fucile, vabbè. Continuerò a chiamarla pistola per tutto il gioco. Ah, c'è il lupo! Ciao, lupo! Dimmi che mio amico. Ciao! Trovarti. Bravo. Bene, amico. Tu vieni con me. Bene. Ecco il piano. Ho visto una mappa di questo posto. Così non andiamo alla cieca. Dovrebbe esserci un passaggio dall'ala psichiatrica fino all'esterno della miniera. Ce la faremo. Mi hai letto nel pensiero. Bravo. Eh, bravo lupo. No, non correre! Comunque c'è il mio cane che guardava malissimo. Poveretto. Ah, yeah. C'è il windingo mi sa Vabbè c'è una leva Per una volta funziona qualcosa Hai visto? Ci so fare io Vero, Lupita Sarà di qua? O di là? Mi sa di là però qua c'è qualcosa C'è un foglio Ok Abbiamo trovato un'altra prova Andiamo di qua Oh oh Poveretto E' qua dentro? Minchia E' qua? C'è qualcosa? Sì Fateci uscire Abbiamo fame Fa freddo Ve la farò pagare Basta con questi sperimenti Bello Lupetto Lupo Dove sei? Brutti rumori Ah è laggiù un lupo Lo chiameremo ghost Come quello di Game of Thrones Ah suppongo che dobbiamo salire sulle scale O no? Ah no è solo un'inquadratura Comunque mi piacciono un casino queste inquadrature qui Ricordano un po' quelle dei primi Resident Evil Aia Cosa c'è? Cosa c'è? Ma doi Dai corri corri ghost Lupetto Ma non lupo E la finestra Vado Dai Ah ma è qua il lupo Meno male Bravo cane Va tutto bene Che cazzo era Stai fermo Non so perché parlo sottovoce Meno male che Non ho mosso il joystick La bottiglia Che sfiga o Fosse caduta Un bel casino Ma io ho paura Che ce ne sia più di uno Che cazzo è un figlio di puttana Che cazzo è un figlio di puttana Fan cazzo è un figlio di puttana Cazzo No non spariamo Non spariamo Non sprechiamo munizioni Ok 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 Meno Vaffanculo Cazzo Oddio 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 Cazzo 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 Porca miseria Oh 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 Scappa Scappa Oh Cacchio Spacca sta porta No Ma Vai Oh merda, oh merda, oh merda Sì, sono morti E vai, lupo Ma è lupo? Hai già andato in là? Lupo? Lupo? Spero, dai Mi dispiacerebbe molto che il lupo morisse Più che altro per colpa nostra Mamma mia Mi ha messo un'angoscia addosso Sta cosa Un'ansia Puttana No, basta Ah ma che Volevo aprir la porta Sono veramente Terrorizzato Non so che cacchio faccio Gira Non gira più il personaggio Non so perché Fra un po' mi aspetto che crolla il pavimento Cazzo Vai Mamma mia Che bravo Barrica Ah, c'è il lupo Vieni Allora ci vediamo dopo Lupetto Sopravvivi Ti prego No Cazzo No E adesso E' ancora viva E' ancora viva Meno male Dai ragazzi Presto Dobbiamo trovare Mike Dai Non riesco a camminare bene E' meglio se andate avanti Senza Senza di me Dai Rassicuriamo No Chris Non ce ne andiamo Resteremo uniti Mike aspetterà Ok Nulla per questo video è tutto Ciao a tutti A un prossimo video Ciao a tutti